Primo giorno di Open Day al De Giorgio di Lecce. In entrambe le sedi del liceo, gli studenti e i docenti hanno illustrato ai futuri iscritti della scuola l'offerta formativa e le modalità con cui si svolgono le lezioni, oltre che presentare le attività extracurricolari disponibili. Dalla matematica con l'utilizzo della calcolatrice grafica e GeoGebra all'innovazione didattica e flipped classroom dell'insegnamento dell'italiano degli esperimenti di chimica all'approfondimento della cultura latina attraverso il debate poi il corso Cambridge, fiora all'occhiello dell'istituto fino al giornalino Le Cosimo e la bottega di Holden luoghi di incontro e di confronto per gli studenti. Grazie a tutti!